L'evento, organizzato dalla Flacco Venosa, ha visto la premiazione di diverse personalità protagoniste del Calcio 5 Lucano e non solo. Riconoscimenti sono andati a giocatori, allenatori, mister, dirigenti e giornalisti per la loro passione, professionalità e attenzione al mondo dei disabili. Impossibile elencare tutti i premiati, ma tra i 35 riconoscimenti assegnati non possiamo non citare quello ad Andrea Latella, un giovane cestista calabrese. La sua storia è un inno alla vita. Sordo e con la vista compromessa l'atleta Regino non molla mai nonostante le dure prove da affrontare. Non si è fermato neanche davanti alla diagnosi di un tumore maligno e di una meningite. L'entusiasmo e la voglia di andare avanti lo hanno portato oltre. Ha trovato una squadra di basket ed è riuscito a partecipare nonostante le difficoltà ad un torneo nazionale e poi alla Coppa Italia. Ora sogna di arrivare a giocare nella nazionale sordi di palacanestro. Una storia, quella di Andrea, che ha fatto venire la pelle d'oca ai presenti nella sala del trono del castello Pirro del Balzo a Venusa. Una bella pagina di sport, quella offerta dal Futsal Passion, evento nato in collaborazione con le associazioni Filo di Arianna Emergency, Basilicata Special Olympics e con il patrocino della Lega Nazionale Dilettanti di Basilicata, del Coni Regionale, del Comune di Venusa, della Regione Basilicata, della Divisione Calcio a 5 e dell'Oxen Basilicata. Special guest della serata Massimo Ronchi, mister della Fel di Eboli e Tony Marzella, tecnico del Real Statte. Sulla nuova del sud di oggi ne dicono tre pagine speciali dedicate all'evento con la cronaca, le curiosità e gli scatti più belli della serata.